Assessore allo sport Mario Quattrocchi, ci troviamo nel campetto di Viale Marconi che sta tornando a nuova vita grazie a un intervento che era atteso da quanti anni, Assessore? Da parecchi anni, quasi 30 anni, finalmente abbiamo collaudato questa struttura che a mio avviso è fondamentale per la città. Ovviamente questo è un primo passo, come potete vedere il manto erboso sta cominciando a prendere forma, tra poco verranno installate anche le porte e verrà completata tutte le linee del campo. Siamo molto soddisfatti perché sarà una struttura fondamentale per i ragazzini, ovvio che è un primo passo. Noi l'abbiamo collaudato, adesso verrà utilizzato da ragazzini, gli interventi che dovranno essere fatti dopo saranno l'impianto di illuminazione e gli spogliatoi. Siamo molto contenti però perché sarà uno spazio aperto a tutti i giovani di Taordina. Ci troviamo ai piedi del Bacicalupo, cosa accade al Bacicalupo? Dal proposito ringrazio la ditta Anastasi perché proprio stanno lavorando su al campo dove verranno cambiate le rete di recinzione, il manto erboso, l'efficientamento energetico. La ditta Anastasi si è resa disponibile anche per questo intervento di trasferire il manto erboso sotto, quindi è stata un'operazione diciamo costo zero e quindi siamo molto soddisfatti perché fra poco ci saranno due strutture fondamentali per i nostri ragazzini. Per quanto riguarda i campetti in terra rossa del Taormina Sporting Club di tennis, ecco anche lì ci sono interventi da realizzare? Anche lì è stato fatto un intervento importante, un intervento che si aspettava da tantissimi anni al circolo del tennis che è una struttura storica di Taormina, pericolante un po' perché l'anno scorso come si ricorderà un palo della luce è crollato, però già siamo riusciti a cambiare i pali della luce, quindi l'efficientamento energetico è stato realizzato, il circolo del tennis merita una ristrutturazione perché fa parte della cultura della nostra città. Ci saranno quindi altri interventi Assessore? Sì, verrà sistemata un po' la terrazza, gli interni, i campi, insomma per il centenario del prossimo anno cercheremo di portarlo allo splendore, un circolo che fa parte, come dicevo prima, non solo della storia dello sport di Taormina ma proprio della cultura della nostra città.